ben tornati su radio web in volo siamo qui al stadio al diamante di baseball di san marino e di diamante oggi parliamo perché siamo qui per parlare con luca martignoni della realizzazione del sogno americano cioè della possibilità che avuto questo ragazzo alessandro e colani a soli 17 anni di fermare un contratto con i pittsburgh pirates che è una squadra della major league di baseball americana che è il maggior campionato a livello mondiale non sto neanche a dirvelo per quanto riguarda il baseball come dicevo sono qui in compagnia di luca martignoni l'allenatore del baseball san marinesi che ringraziamo per essere qui e complimenti per questo vostro risultato che è il risultato per lo sport di san marino intanto ciao a tutti ragazzi grazie dell'invito è un piacere essere qui soprattutto per parlare ecco di questa cosa fantastica che sta succedendo e di cui ci sentiamo tutti molto orgogliosi ecco grazie se non sbaglio è in partenza in questi giorni tra l'altro alessandro teoricamente dovrebbe partire la prima settimana di maggio quindi entro un paio di settimane giusto il tempo di completare la burocrazia dei visti e le missioni insomma di conseguenza di biglietti aerei ecco certo dove tra l'altro studierà anche in america e quant'altro se non sbaglio comunque esatto è previsto nel suo contratto che terminerà l'anno scolastico qui in italia e poi da settembre frequenterà la high school in florida frequenterà avrà a disposizione dei tutor che lo aiuteranno sia con la lingua che che con le materie scolastiche ecco lo prepareranno poi per gli esami fantastico ma ora parliamo di quello che è sostanzialmente avvenuto in questo campo cioè come ha sviluppato la sua come si è sviluppata la sua carriera proprio come atleta come professionista quale è diventato appunto alessandro ercolani come ha iniziato a giocare alessandro allora compirà 17 anni fra qualche giorno quindi direi che qui in campo più o meno da una decina di anni ecco sono dieci anni che insieme agli altri allenatori lo accompagniamo in questa crescita sia tecnica che umana non nascondo il fatto che ci ha fatto tribolare più di una volta per via insomma perché poi un ragazzo acceso un ragazzo vivace e d'altronde un pochino bisogna anche essere così per ecco per arrivare dimostrare anche un po di carattere proprio come dicevo l'abbiamo accompagnato in questo percorso tutti insieme e devo dire che poi anche normale che la crescita sia tecnica coinvolga anche un po la crescita umana insieme a tutte le problematiche che ne vengono quindi ci vuole pazienza bisogna parlare tanto bisogna cercare di insegnare continuamente e lui dal canto suo è sempre stato bravo ad ascoltare ecco questo bisogna sempre almeno soprattutto per quanto mi riguarda io gli sono sempre stato molto vicino in questi anni perché io mi occupo direttamente di lanciatori e seguo tutti i lanciatori del settore giovanile del san marino compreso lui ecco lavoro con lui da una decina di anni insieme agli altri allenatori e abbiamo lo abbiamo accompagnato ecco per tutto questo percorso lui è sempre stato uno dei migliori devo dire atleticamente parlando soprattutto perché sai quando i ragazzini arrivano e tu li fai sempre giocare lanciatore ricevitore o interbase che sono un po i ruoli più centrali di questo gioco non i più importanti quanto ecco in quelle fasce d'età lì sono molto importanti e lui devo dire che ha sempre girato in quei tre ruoli lì per poi ecco concentrarsi sul ruolo di lanciatore quando è cresciuto ecco se non sbaglio lui ha giocato anche non vorrei fare una gaffa nella nazionale italiana giusto lui è lui ha nazionalità anche italiana e viste le sue caratteristiche è stato selezionato già da qualche anno insomma nelle varie nazionali di categoria e niente ha giocato recentemente gli ultimi campionati europei di nettuno c'ero anch'io come suo pc in coach in nazionale anche lì quello è stato un un ottimo diciamo un'ottima possibilità per lui di mettersi in scena in risalto perché ha fatto veramente veramente ben figurato ecco ha lanciato la semifinale contro l'olanda dominando dall'inizio alla fine e proprio quella partita lì probabilmente le ha permesso di mettersi in vista di fronte agli scout ecco esatto infatti come che storia appunto come è arrivata appunto questa o questo contratto insomma che storia questa conquista professionale da parte sua ma in realtà è già qualche anno che gli scout americani hanno messo gli occhi su alessandro questo lo sanno insomma non è una cosa da nascondere e come dicevo hanno hanno diciamo visto un potenziale in lui già quando aveva 13 anni e poi ecco ovviamente l'hanno tenuto monitorato negli anni fino ad arrivare proprio ai campionati europei almeno questo è il mio punto di vista in cui è sbocciato e esploso e si è meritato ecco diciamo la corte di diversi club americani ecco fantastico poi san marino a livello di sport e di baseball in particolare è comunque un'eccellenza tra l'altro mi corrego se sbaglio ma san marino ha vinto quattro campionati italiani due coppe europee tre coppe di campioni esatto e due coppie italia ecco 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 esatto sì diciamo che san marino rappresenta un po un'eccellenza sul territorio desbollisticamente parlando abbiamo la fortuna di avere questa struttura che sotto gli occhi di tutti abbiamo la fortuna di lavorare per una federazione che è molto presente sul campo e ci mette a disposizione per quello che è possibile tutto quello che ci serve ci sono degli ottimi allenatori e quindi ecco si è creato soprattutto a livello giovanile un bellissimo ambiente e in più c'è la fortuna di avere questa prima squadra che è un po la ciliegina sulla torta diciamo è composta poi da giocatori che rappresentano per i nostri ragazzi ecco continuamente uno stimolo è un esempio e un obiettivo ecco perché tutti ambiscono arrivare a giocare a quel livello lì e diventare così bravi certo onore al merito insomma nel senso i forti buoni nascono sugli alberi sugli alberi migliori e io ecco in chiusura dico questo cosa vorrebbe dire appunto agli altri atleti magari non solo del baseball che volessero appunto arrivare a risultati in qualche modo analoghe quelli che ha raggiunto alessandro a livello professionale sportivo ecco credo che prima di tutto alessandro debba rappresentare un po un esempio per tutti i ragazzi in quanto rappresenta la verità la proprio la possibilità concreta di poter realizzare un sogno del genere per quello che riguarda il mio pensiero ecco penso che il baseball sia proprio un grande insegnante di vita così come probabilmente gli altri sport io ho giocato a baseball e quindi posso assicurare questa cosa nella vita tutti ci poniamo degli obiettivi ecco che vogliamo raggiungere e dobbiamo fare di tutto per raggiungerli ecco quindi quello che io voglio suggerire ai ragazzi è proprio di porsi degli obiettivi anche a livello sportivo e fare di tutto per raggiungerli anche perché la vita ha bisogno di stimoli la vita ha bisogno di sorrisi e di e soprattutto ha bisogno di obiettivi perché in questo modo qui ci possiamo realizzare ecco certo ancora complimenti comunque nonostante comunque il periodo difficile è bello sapere comunque che le celezzerie san marino continuano a dare prova di sé questo è veramente un segnale fantastico e io mi fermo qui e ringrazio ancora per essere stata con noi e in bocca al lupo stavano passando tra l'altro i ragazzi che si riscaldavano per l'allenamento di oggi facciamolo in bocca al lupo anche a loro e che possa continuare così questo trend positivo per il vostro lavoro crepi grazie ancora dell'invito è stato un piacere quando volete ragazzi grazie della vostra attenzione grazie per averci seguito e mi raccomando venite tutti al campo a fare un po di tifo che c'è sempre bisogno con questa così panoramica del diamante del campo da baseball di san marino vi salutiamo e come sempre grazie per averci seguito e buon proseguimento su radio web in volo ciao